In settimana abbiamo preparato questo tipo di partita, quindi attaccarli alti, non cercare di far giocare questa squadra perché aveva buona individualità. Quindi è stata preparata appositamente questo inizio di partita aggressivo per cercare subito di sbloccare il risultato, cosa che devo fare in complimenti alla mia squadra che ha subito la vettura, infatti per 20-25 minuti loro forse non sono mai riusciti ad arrivare in aria nostra. E' normale che sul 2-0 loro hanno cercato di spingere alzendo un po' i ritmi, noi abbiamo controllato senza soffrire più di tanto. È normale che poi nel secondo tempo abbiamo messo 4-4-2 per cercare di schermare loro e non penso che il nostro portiere ha fatto nessuna parata. Quindi è stata gestita in un modo egregio, attenti e concentrati fino alla fine e penso che i ragazzi meritano questa vittoria e soprattutto meritano di risalire questa classifica che non meritano il continuo di guardia. Sì, noi abbiamo entrato in partita subito e loro hanno fatto il suo in 10-15 minuti il primo tempo, hanno trovato due gol e dopo la partita era nostra però senza arrivare a portare loro. Purtroppo portiamo a casa 0 punti e loro sono contenti e noi ancora non possiamo vincere.